Questo corso è una specie di assicurazione sulla vita. La prima cosa che dobbiamo fare è cambiare mentalità. Se impariamo a cucinare in questo modo, è un modo per curare delle eventuali patologie che abbiamo, ma soprattutto per prevenire patologie croniche future. L'obiettivo però deve essere l'autoregolazione intuitiva. Oggi siamo molto lontani da sentire noi stessi e questo è quello che dobbiamo riuscire a fare, ascoltarci per cercare di capire quello di cui noi abbiamo bisogno. Per avvicinarci alla prospettiva di rimanere sani anche nella vecchiaia. Siamo quello che mangiamo, impariamo a preparare delle ricette semplici e salutari che ci fanno stare bene in armonia con l'ambiente che ci circonda. E allora andiamo in cucina!